Eccoci, buonasera, molte notizie e diciamo che partiremo con l'appello che è stato fatto all'ambasciata italiana a Kiev a tutti i connazionali. Andatevene subito dal territorio dell'Ucraina, prendete il primo treno possibile, viaggiate soltanto quando non c'è il coprifuoco, come a dare un'idea di urgenza, di drammaticità. In realtà questa notte ci sono stati molti ordigni lanciati su Kiev, tutti intercettati per dire il vero, ma il senso è quello di un'attesa preoccupata da parte della nostra diplomazia nella capitale ucraina. E tutto questo per la verità alla vigilia di una giornata importantissima, importantissima a Mosca, dove c'è la parata sulla Piazza Rossa e il discorso di Putin nell'anniversario della vittoria dei Russi, dell'Unione Sovietica, degli stalinisti sul nazismo, sulle forze italiane, respinte dopo lunghissimo assedio di Stalingrado e poi appunto l'avanzata russa verso Berlino. E questo è evidentemente un appuntamento che per Putin sarà anche l'occasione per parlare dello Stato, di quella che lui non chiama guerra, operazione militare speciale. e i timori prevalgono sulle speranze. Domani, contemporaneamente, quella stessa giornata è per l'Ucraina la giornata dell'Europa e Zelensky avrà la visita di Ursula von der Leyen. Una giornata, come vedete, cruciale, speriamo solo dal punto di vista diplomatico e delle parole. Per noi è una giornata importante sotto il cielo della politica, perché domani il governo incontra le opposizioni per la prima volta sulle riforme e ci sarà per la prima volta in atteso, perché sembrava che non ci sarebbe stato, anche l'incontro, sarà il primo della giornata tra Meloni e Conte, tra la Premier e uno dei suoi predecessori. Poi ci sarà anche l'incontro con Schlein e con le altre forze politiche. Ci sono due scuole di pensiero, inizia il dialogo oppure inizia il prendere o lasciare. Vedremo, intanto, in una giornata che è stata anche scandita dalle note di Gianni Morandi, del tutto inedite, che sembrano in qualche modo spiazzanti, con forse quello che insieme a Celentano è il cantante maschio più famoso d'Italia, che poi c'è Mina ovviamente, più famoso d'Italia, che parla davanti ai senatori, alla Presidente del Consiglio, soprattutto al Presidente della Repubblica. Importante vedere anche l'inno di Mameli, cantato da Morandi e ascoltato e un po' cantato anche da tutte le figure politiche che conosciamo. Ci sono i sondaggi oggi, è lunedì, ci sono fatti di cronaca molto, molto duri, quello in Puglia nel Foggiano. Ci sono le notizie sulla perizia riguardo alla povera Saman e c'è anche, è lunedì, il Data Room. Mina Gabanelli ci mette al cospetto, tanto per cambiare, di tanti fondi dell'Europa, quelli per i corsi di formazione per i disoccupati, che sono spesi in ordine sparso per le regioni, con risultati che per ora, tanto per cambiare, non sono numericamente ancora affatto soddisfacenti. Ci sono anche tante altre notizie, ci sono, è lunedì, ovviamente anche i sondaggi, vedremo chi va su e chi va giù. Tutto questo subito dopo la pubblicità, tra pochi secondi. Si sono intensificati i bombardamenti russi su Kiev e su diverse altre località dell'Ucraina ed è una situazione tanto critica che la nostra ambasciata ha invitato con urgenza tutti i connazionali a lasciare il paese. Gli attacchi stanno provocando anche interruzioni di elettricità acqua, corrente riscaldamento. Domani a Kiev arriverà la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Ma soprattutto gli occhi di tutti saranno puntati in mattinata sulla Piazza Rossa di Mosca, dove parlerà Vladimir Putin nella più importante ricorrenza del paese, la giornata della vittoria che ricorda la fine della guerra contro Hitler. In una piazza più blindata che mai, dopo il recente episodio dei droni, sarà celebrata con la tradizionale parata questo giorno, ma soprattutto si ascolteranno le parole attesissime di Putin. Una svolta o, come l'anno scorso, ancora avanti con la guerra? E domani c'è anche il confronto tra governo e opposizione sulle riforme istituzionali. Meloni vorrebbe un percorso condiviso, ma ricorda a tutti che ha una maggioranza dietro le spalle. La notizia è che ci sarà anche Conte, che sarà il primo a essere incontrato e dopo di lui Ellie Schlein e tutti gli altri leader delle forze politiche. Intanto avvicendamenti ora imminenti alla guida della TV pubblica perché si fa da parte l'amministratore delegato Fuortes. Si è salvato nascondendosi dietro un divano il figlio di 5 anni dell'uomo che ieri in provincia di Foggia ha ucciso il vicino di casa, che secondo lui era l'amante della moglie e poi ha tentato di uccidere anche la donna che si è salvata solo perché Jessica, la figlia sedicenne, ha provato a farle da scudo, uccisa al suo posto. Il progetto GOL, cioè Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori, deve aiutare 3 milioni di disoccupati a trovare un posto e ha a disposizione fino al 2025 di 4 miliardi e 400 milioni del PNRR. Lo strumento sono i corsi di formazione per far lavorare 800 mila persone, se ne occupano le regioni ma per ora le cose non vanno nel verso giusto. È il data room di Milena Gabanelli a parlarcene questa sera. Buonasera, come avete visto dai titoli si parte dall'Ucraina ancora una volta. Perché? Perché in qualche modo a rendere più tesa ancora la situazione è arrivato un paio d'ore fa un appello sul sito della nostra ambasciata in Ucraina rivolto a tutti i connazionali che vivono in quel paese e soprattutto a Kiev. Il consiglio è perentorio. Andatevene subito. La notizia arriva nel tardo pomeriggio e ad una lettura veloce potrebbe sembrare una preoccupazione scontata. Invitare i connazionali a lasciare subito un paese che da un anno e mezzo è in guerra e un eccesso di prudenza o forse c'è qualcosa di più. Insomma perché le nostre autorità diplomatiche oggi hanno sentito il bisogno di aggiornare quell'avviso di pericolo. Il pensiero va subito a cosa accadrà domani mattina quando sulla Piazza Rossa verrà celebrata la vittoria russa sul nazismo e a cosa potrebbe accadere in Ucraina. Mentre la memoria va dritta all'8 maggio di un anno fa quando il governo di Kiev impose uno strettissimo coprifuoco in tutto il paese proprio per il timore di molteplici violenti attacchi che si verificarono poi puntualmente. E sebbene nel sito Viaggiare Sicuri si parli di un rinnovato invito non legato a contingenze specifiche il crescendo di tensione in questi giorni con attacchi missilistici sempre più pesanti anche a Kiev provoca ulteriore allarme e raccomanda la massima prudenza. Ogni viaggio a qualsiasi titolo è dunque assolutamente sconsigliato come si legge nell'aggiornamento odierno pubblicato anche sulla home page dell'Ambasciata d'Italia Kiev. Agli italiani ancora presenti sul territorio dunque è fortemente raccomandato di utilizzare i mezzi tuttora disponibili inclusi i treni per lasciare immediatamente il paese negli orari in cui non è in vigore il coprifuoco scrive l'unità di crisi della Farnesina ricordando che nelle aree rurali ma anche nei centri urbani in tutte le regioni dell'Ucraina il funzionamento di internet e delle linee telefoniche è precario ed esiste un concreto rischio di completo collasso delle infrastrutture energetiche, un contesto in cui risulta spesso impossibile ricevere assistenza in caso di necessità. Lo sanno bene del resto di abitanti della capitale sotto attacco quasi quotidiano con oltre 35 droni abbattuti ieri dalla contraerea e i rottami in qualche caso hanno colpito case palazzi provocando feriti. Ma ancora peggio è l'ultimo attacco su Odessa dove è stato colpito il magazzino della Croce Rossa ed è morto il custode. Tra le fiamme sono andati distrutti aiuti monetari, farmaci e cibo. Ma come si diceva già in questo servizio l'attesa è poi per quello che si dirà domani sulla piazza rossa di Mosca e al culmine della parata militare e civile che ricorda quel 9 maggio del 1945. La vittoria dell'armata rossa è sui nazisti, la sconfitta, la disfatta di Hitler e del nazismo. È l'occasione per Putin per prendere la parola davanti ai suoi letteralmente, soprattutto ai suoi militari. Per dire cosa? Il gran giorno della gloria dell'armata rossa e della vittoria sul nazismo è arrivato. Ma anche questa volta Putin non potrà esibire grandi conquiste nel corso della sfilata sulla piazza rossa. Il 9 maggio dello scorso anno portò ai russi la conquista di una città distrutta, Mariupol. Quest'anno neanche i ruderi di Bakbut potranno essere esibiti come compensazione per la grande carneficina. Su quel che resta della città sono state lanciate bombe al fosforo. Prigozhin, che ogni giorno annuncia qualcosa che poi smentisce dopo 24 ore, sostiene che ormai è quasi fatta. Da Kiev invece arriva la notizia di soldati ucraini in marcia verso il cumulo di macerie che fu Bakhmut. Vladimir Putin è pronto a presenziare alla sfilata di armi e di foto dei tantissimi soldati russi morti nella Seconda Guerra Mondiale. Le voci che si rincorrono dicono che domani in piazza ci sarà un suo sosia, che lui è nascosto in qualche bunker e che il drone sul Cremlino era un messaggio per fargli disertare le celebrazioni. Non mancherà però il giorno dell'orgoglio russo va celebrato, nonostante le decine di migliaia di morti sui campi ucraini. Con Putin ci saranno i presidenti di Armenia, Kazakistan, Kyrgyzstan. Yaparov è già arrivato a Mosca. I due hanno siglato un accordo che prevede di sviluppare infrastrutture militari russe in territorio kirghiso e di aumentare la cooperazione militare. Un alleato in più per Mosca, il presidente di una delle repubbliche ex sovietiche che continuano a celebrare il 9 maggio. Da altre di queste repubbliche Mosca sta cominciando a reclutare lavoratori immigrati da inviare al fronte, in cambio offre stipendi inimmaginabili in patria e corsie preferenziali per la cittadinanza russa. Lo stato maggiore del Cremlino ha bisogno di rinforzare i ranghi e anche a Mariupol gli uomini vengono convocati, ormai sono considerati russi e volenti o nolenti devono imbracciare le armi. In Ucraina invece il ricordo della vittoria sul nazismo è stato anticipato ormai da anni all'8 maggio per marcare la distanza dal vicino ormai nemico col quale però ha in comune tantissimi di quei soldati morti combattendo durante la seconda guerra mondiale. A marcare la frattura ormai insanabile è arrivata un'altra decisione del presidente. Zelensky ha firmato un decreto che stabilisce che da domani, il 9 maggio, anche per l'Ucraina, sarà la festa dell'Europa. Non a caso a Kiev domani è attesa Ursula von der Leyen. Vedremo, sicuramente domani è una giornata importante anche per tutt'altro motivo in Italia. Infatti ci sarà l'incontro, il primo formale tra governo e opposizioni al massimo livello sulle riforme istituzionali. Vuol dire che Meloni per la prima volta vedrà nel faccia a faccia Giuseppe Conte ma anche Ellie Schlein e le altre figure che non fanno parte della maggioranza per vedere se è possibile avviare appunto un confronto sulle riforme, sul presidenzialismo e non soltanto. Poco fa praticamente a fare da colpo d'attesa rispetto a questi incontri di domani ha parlato proprio Meloni. Basta con le legislature ostaggio dei cambi di casacca, io voglio fare una riforma ampiamente condivisa ma ho comunque il mandato per farla. Giorgia Meloni parla alla vigilia degli incontri con le opposizioni convocate domani a Montecitorio nella biblioteca del Presidente per parlare di riforme istituzionali, rimettendo al centro un tema caro al suo partito, il presidenzialismo. Ma nelle ultime ore la proposta sul piatto sembra cambiata virando verso il premierato, elezione diretta del Presidente del Consiglio, rilanciato ieri da Tajani come ipotesi con più consensi in Parlamento. Proprio il vicepremier forzista oggi tende la mano alle opposizioni, serve un confronto costruttivo, le riforme si fanno tutti insieme, un cambio di rotta o almeno di toni rispetto alle parole di ieri. In caso di aventino delle opposizioni andremo avanti da soli. La ricerca di dialogo non porterà comunque ad un binario morto, lo sussurrano da Fratelli d'Italia, lo dice esplicitamente il vicepremier leghista Salvini. Anche lui parte della fitta delegazione. Speriamo ci sia voglia di dialogare e che non ci siano no pregiudiziali, altrimenti decideranno i cittadini, dice evocando il ricorso al referendum confermativo. Anche perché finora l'unica sponda alla maggioranza arriva dal fu terzo polo, occorrensi da sempre a favore del sindaco d'Italia e calenda disponibile a discutere, scettiche le altre opposizioni. A sorpresa, sarei leader 5 Stelle Conte ad aprire gli incontri alle 12.30, chiesto di modificare il calendario per poterci essere, occupando anche fisicamente uno spazio politico. Quello dell'opposizione intransigente, dopo aver alzato paletti nei giorni scorsi contro l'elezione diretta del Premier e le modifiche della Costituzione, Conte si dice disponibile a vedere le carte dell'esecutivo, purché non sorprendere o lasciare, altrimenti è il governo che rompe il dialogo, le sue parole. Chiuderà gli incontri Schlein alle 18.30. Nonostante tra i dem sia fortissimo il timore che l'incontro sia solo un modo per distogliere l'attenzione, dopo aver riunito la Segreteria e poi i membri PD delle Commissioni Affari Costituzionali di Camera e Senato, la leader PD si prepara a vedere le carte di Giorgia Meloni disponibile ad un confronto serio e per evitare di restare con il cerino in mano porta in dote una proposta. Niente elezione diretta ma rafforzamento dei poteri del Premier sul modello tedesco. Un atteggiamento costruttivo utile anche in chiave interna a tranquillizzare il fronte riformista allarmato dall'ultimo addio al PD, quello pesante di Carlo Cottarelli, che ha annunciato le sue dimissioni da senatore in dissenso con lo spostamento a sinistra dell'asse del partito con l'elezione di Schlein. Vedremo tra poco i sondaggi di oggi, le intenzioni di voto di SVG per vedere se ci sono già dei riscontri a queste nuove dinamiche. Prima però bisogna dar conto di chi le ha cantate, le ha cantate chiare davanti al Presidente della Repubblica, davanti al Presidente del Senato, davanti al Presidente del Consiglio, oggi. Canto da tanto ma è la prima volta che mi capita una cosa del genere, dice Gianni Morandi, visibilmente emozionato. Pochi possono dire di essersi esibiti nell'Aula del Senato, davanti tutte le più alte cariche dello Stato, dal Presidente Mattarella alla Premier Meloni alla Presidente della Corte Costituzionale Sciarra. Le celebrazioni per i 75 anni del Senato della Repubblica le ha fortemente volute il Presidente Ignazio Larussa, che dice ha lasciato completamente mano libera all'artista nella scelta delle canzoni. Il concerto inizia con un mondo d'amore, nella scaletta c'è un'unica eccezione, nel fuoriprogramma arriva con Fatti Mandare dalla Mamma. La russa si muove come il miglior Amadeus, poppa lo Stato puro, felice di salutare la senatrice a vita segre, presentatore fuori dagli schemi quando ricorda che da Israele è arrivato con il suo compagno, il parlamentare israeliano Amiro Ana per i 75 anni della nascita dello Stato di Israele. Tutti seguono il concerto, Renzi è tra i più partecipi, Morandi attacca Cera un ragazzo che è come me vero inno pacifista dei tempi della guerra in Vietnam. L'invasione russa in Ucraina non c'entra, lui spiega che all'epoca venne censurata con tanto di interrogazione parlamentare. Ora per fortuna questo non succede, dice. La russa approva l'aula del Senato, gremita come prima del taglio dei parlamentari anche. Si diverte molto la capogruppo di Forza Italia Ronzulli come Maurizio Gasparri. E Giorgia Meloni? All'inizio le telecamere la colgono in un momento di stanchezza. Subito partono i commenti social, si sta annoiando, non apprezza, basta seguire il concerto. Per capire che forse non è vero. Sicuramente la premier si emoziona quando Morandi intona Caruso di Lucio Dalla. Il concerto dura mezz'ora, alla fine Morandi sembra aver superato l'emozione. La russa saluta, la chiusura è con l'inno alla gioia, inno dell'unione. Sono tutti in piedi. E vediamo allora come andrebbe se si votasse oggi. Fratelli d'Italia resta il primo partito, anzi guadagna uno 0,7%. Qualcuno dirà decreto primo maggio, decreto lavoro. Comunque questo 0,7 la porta al 29,5%. Partito Democratico meno 0,4, 21,1%. Movimento 5 Stelle più 0,3, 15,6%. Lega stabile al 9%, Forza Italia meno 0,2 al 6,6%. Azione meno 0,2 al 4,1%. Dietro Verdi e Sinistra più 0,1, 3,3%. Italia Viva più 0,3, 2,8%. Più Europa 2,4, più 0,1%. Per l'Italia con paragone 1,8 meno 0,3%. Unione Popolare 1,6 meno 0,2%. E però c'è un'altra pagina politica perché come succede ciclicamente quando cambia un governo e cambia una maggioranza è entrata in fibrillazione la RAI e fatalmente ha deciso di andarsene l'amministratore delegato Fuortes, dicono i maligni, già destinato a Napoli. Sulla carica da me ricoperta e sulla mia persona si è aperto uno scontro politico che indebolisce la RAI e il servizio pubblico, prendo dunque atto che non ci sono più le condizioni per proseguire il mio lavoro di amministratore delegato. Firmato Carlo Fuortes, ex subintendente dell'Opera di Roma e a capo della Fondazione Musica della stessa città ed ex, a questo punto, amministratore delegato dell'azienda televisiva di Stato, nominato poco meno di due anni fa dal governo Draghi. Si aspettavano, si aspettano ancora, per la verità le nomine, sono arrivate le dimissioni. Che queste portino poi con sé, come molti pensano, anche l'annuncio di una prossima designazione, la sua, sovrintendente del San Carlo di Napoli, al posto di Stefan Lesner, colpito da un decreto che vuole imporre il limite di 70 anni agli amministratori con incarichi dirigenziali nelle strutture che rientrano nel bilancio statale, lo si vedrà in seguito. L'incarico di Lesner scadrà nel 2025 e la retroattività del decreto approvato pochi giorni fa è tutta da vedere. Di sicuro, trattandosi di Rai, sono dimissioni che fanno molto rumore nel mondo politico, capaci di far scivolare in secondo piano le stesse difficoltà di un governo che fatica a venire a capo di questa tornata in ballo oltre alla finanza. Ci sono rete ferroviaria, polizia, IMS e INAIL per dissidi interni, partitici, Fratelli d'Italia e Lega in particolare, e personali, almeno in tema di guardia di finanza, Giorgetti e Crusetto da una parte, il sottosegretario Mantovano dall'altra. Se si fosse ancora a questo punto, prima dell'insediamento del generale Zaffarana alla presidenza dell'ENI, previsto per domani pomeriggio, a subentrarli intanto ad interim, sarebbe l'attuale vice, il generale De Gennaro. Sulla Rai, nella maggioranza, naturalmente nessuno si strappa le vesti, sua libera scelta, Tagliacorto Salvini, non credo che nessuno lo abbia costretto, non mi risulta che ci sia nessun tipo di pressione particolare nei suoi confronti, il commento del ministro Lollo Brigida, mentre Gasparri va addirittura oltre, c'è da augurarsi che la Rai apra una nuova stagione di rilancio industriale e di pluralismo culturale. La parte opposta, i più agguerriti sono Bonelli e Fratoianni, da Verdi e Sinistra Italiana, che parlano l'uno di golpe, l'altro di pre-golpe. Cominciano le danze per il controllo totale del servizio pubblico, le parole di quest'ultimo, mentre il Movimento 5 Stelle parla sì di gestione deficitaria dei Fuortes, ma punta anche il dito sui denunciati cambiamenti di linea editoriale, dandogli appuntamento per la prossima settimana, nella sede più televisiva della politica, la Commissione Vigilanza Rai. Andiamo alla cronaca, quella bruttissima vicenda nel Foggiano. Si era nascosto dietro il divano di casa, si è salvato così, mentre suo padre uccideva la sorella e feriva la madre, lui era lì senza fiatare, presente ma immobile, a 5 anni. In quegli attimi il padre aveva già ucciso un vicino. Ora il bambino è in salvo con gli zii, la madre ricoverata in ospedale in condizioni stabili verrà ascoltata nelle prossime ore. Taulant Malai, 45enne di origini albanesi, panettiere di Torre Maggiore, Foggia, arrestato poche ore dopo il delitto, ha iniziato a parlare. Per ora ci sono solo le sue parole. Nella notte, tra sabato e domenica, avrebbe sorpreso la moglie Tefta, anche lei albanese, 39 anni, chattare di nascosto nel letto con un vicino di casa, Massimo De Santis. Secondo l'uomo, lei avrebbe ammesso il tradimento. Così Malai ha afferrato un coltello e atteso nell'androne del palazzo, dove anche lui viveva, il ritorno di De Santis, barista di 51 anni, e l'ha ucciso con 20 fendenti. Poi è salito in casa, dove ha colpito la moglie, ucciso la figlia sedicenne, Jessica, che cercava di proteggere con il suo corpo la madre. Con un telefonino filmava tutto, un video dell'orrore, che lui stesso ha postato e inviato ad amici. Poi è uscito in cerca del figlio piccolo, gridando, non ho finito ancora. I carabinieri lo hanno trovato per strada, gli abiti insanguinati. Aveva abbandonato il coltello in macchina, è accusato di duplice omicidio e tentato omicidio, vive in Italia da 20 anni, lavorava in un panificio ogni notte, dalle 23 alle 7. I docenti e i compagni del liceo Fiani e Leccisotti, di Torre Maggiore, ricordano Jessica come una ragazza studiosa e dolcissima. Oggi la campanella ha suonato per un minuto di silenzio, per lei. Ci sono altre notizie che riguardano un'altra donna, giovane donna, che fu uccisa dai suoi familiari. E ancora quella storia di Novellara, Reggio Emilia. Le hanno rotto l'osso del collo, così è morta Samana Abbas, la diciottenne pakistana uccisa la notte del 30 aprile 2021 a Novellara. A dirlo sono i periti, nominati dalla Corte d'Assise di Reggio Emilia, Cristina Cattaneo, la stessa del caso Iara, e Biagio Leone nella relazione medico-legale depositata in vista dell'udienza di venerdì prossimo. Un'analisi eseguita sui resti della giovane, il cui corpo senza vita fu ritrovato lo scorso novembre in un fossato vicino al casolare abbandonato dove due settimane fa sono tornati insieme ai magistrati tre degli imputati, lo zio Danish e due cugini. Dalle analisi i periti hanno riscontrato la rottura dell'osso del collo che ha provocato un'emorragia. È possibile concludere, scrivono nella relazione, che il quadro è indicativo, malgrado l'avanzato stato di decomposizione di una causa di morte da sfissia meccanica, da strozzamento o strangolamento. L'hanno soffocata dunque stringendo le mani intorno al collo oppure usando una corda. La certezza che si tratti della diciottenne pakistana arriva, secondo gli esperti, dalla comparazione delle foto in cui lei sorride con l'analisi dei denti. A processo per la morte della ragazza, che si era ribellata al matrimonio combinato e imposto dalla sua famiglia, ci sono proprio i suoi familiari, il padre che è in carcere in Pakistan in attesa che venga concessa l'estradizione, la madre ancora latitante, lo zio Danish e due cugini in cella in Italia. Due settimane fa i tre hanno partecipato al sopralluogo voluto dalle difese insieme ai giudici e agli avvocati nella casa in cui vivevano, vicino al luogo in cui è stato ritrovato il corpo di Saman. L'udienza per l'estradizione del padre di Saman, Shabar Abbas, ha subito circa 20 rinvii. La prossima dovrebbe tenersi domani, mentre venerdì Abbas dovrebbe partecipare in videocollegamento all'udienza a Reggio Emilia del processo per l'omicidio della figlia. È il momento del Data Room con Milena Gabanelli e si parla di un tema che riguarda milioni di persone. Solo nel mese di maggio in Italia le imprese hanno cercato e non trovato 83 mila addetti alla ristorazione, 37 mila alle vendite, 14 mila operai nell'edilizia. Per Confcommercio quest'anno mancheranno all'appello 150 mila camerieri. Per la federazione autotrasportatori, 24 mila autisti, 40 mila negli alberghi, in tutta la filiera dell'edilizia in 294 mila. Per formare questi professionisti, a parte gli autisti, ci vuole un corso di formazione professionale. E di questo da sempre se ne occupano le regioni, perché conoscono il territorio e sanno di cosa c'è bisogno. Nella realtà sono le società di formazione accreditate che decidono quali corsi proporre per i disoccupati. E in tanti sono per parrucchieri, estetisti, unghie gel, piercing. Le regioni pagano e finisce lì. C'è da dire che finora le leggi di bilancio hanno sempre solo stanziato briciole. Ma adesso cambia la musica. Dal 2022 ci sono 4 miliardi e 9 del PNRR da spendere entro il 2025 per aiutare 3 milioni di disoccupati a trovare il lavoro. Alle regioni sono già arrivati 880 milioni e i loro centri per l'impiego li hanno presi in carico e profilati a 800 mila bisogna fare un corso di formazione professionale. Queste sono le linee generali. A tutti i disoccupati da Trento a Siracusa devono essere garantiti i livelli essenziali delle prestazioni fra cui il tirocinio retribuito. Ma per esempio Veneto, Lombardia e Lazio non lo prevedono. A fine corso viene dato l'attestato di frequenza ma molti corsi sono online. In 10 regioni non è obbligatorio certificare le competenze acquisite. Quindi non è detto che uno abbia imparato un mestiere. Il rendiconto delle spese è a livello nazionale. Vuol dire che se la Calabria non spende tutti i soldi che le spettano e il Veneto ne spende di più alla fine i conti tornano e i disoccupati della Calabria tali restano. Bene, in Italia in pochi mesi sono nate ben 1463 nuove società di formazione. 333 solo in Campania, 242 in Lazio, 207 in Lombardia, 117 in Puglia. In totale in Italia a dicembre ce n'erano 12.487. Molte regioni hanno già definito la lista degli enti e destinato i fondi e a fine dicembre scorso dovevano essere formati 160.000 disoccupati. Ad oggi i corsi partiti si contano sulle dita di una mano e non è stato diffuso un dato su quanti saranno e per quale tipo di formazione. Milena, buonasera intanto. Se si volesse ironizzare si direbbe che gli unici veri posti di lavoro che sono stati trovati sono quelli delle scuole di formazione perché se non ne state create decine di migliaia evidentemente lì qualcuno ci lavora e lì qualcuno ha trovato un posto e uno stipendio. Ma ci sono oltre 100.000 disoccupati di cui non sappiamo. Non è stato formato neanche uno a sto punto, dei 160.000. Allora, quello dei centri di formazione di sicuro è il grande business e i formatori sono o docenti o manager d'azienda quindi uno stipendio ce l'hanno già, lo rimpinguano. Primo. Sui dei 160.000 che dovevano essere formati entro il 2022 non è stato formato nemmeno uno perché i primi corsi in qualche regione del nord sono partiti a fine anno, a fine 2022. Lo stato dell'arte oggi è che in alcune regioni stanno formando le aule in altre hanno appena pubblicato il catalogo altre sono completamente ferme. Quindi un'informazione che sia una ufficiale non c'è. Ci abbiamo lavorato in tre chiamando regione per regione per riuscire a capire com'era lo stato dell'arte mi preme ricordare con la collega Querset e Francesco Tortora. Ebbene, questo è l'esito e quindi alla fine di tutto questo tra l'altro nel 2023 oltre ai 160.000 bisogna formarne altri 320 questo è il piano a cui si aggiungeranno quelli del reddito di cittadinanza che perderanno a luglio e l'unica condizione per avere un minimo di reddito è quella di frequentare un corso. Dopodiché i corsi che vengono fatti non tengono conto delle esigenze delle imprese che altro aggiungere. Però c'è una cosa da aggiungere Alla fine, come si è visto in tre, né tanti né pochi però in tre siete riusciti a fare una fotografia della situazione ci sarà qualcuno che oltre a fare la fotografia è anche in grado poi di dare delle responsabilità e nel caso delle sanzioni? Allora, la competenza è delle regioni la formazione quindi non è che gliela puoi togliere la cosa che si può pretendere e dovrebbe essere pretesa dal ministro del lavoro piuttosto che dalla struttura di missione di fitto è esigere che le regioni facciano corsi tenendo conto delle esigenze delle imprese e che vengano sorvegliati e che vengano emessi i certificati di competenza acquisita perché tanti corsi sono online come sappiamo e non è che basta la certificazione di frequenza per stabilire se hai imparato a servire a tavola qualora tu abbia fatto il corso per cameriere queste sono linee che dovrebbero essere imposte alle regioni perché la competenza non gliela puoi togliere se poi una regione non fa quello che dovrebbe fare l'ufficio dovrebbe essere commissariato ma questo è da sempre anche con le briciole doveva essere tanto più adesso che ci sono in ballo 4 miliardi e 9 fantascienza col PNRR grazie per ora grazie ne riparleremo sicuramente grazie a Milena Gabanelli dopo di noi a 8 e mezzo Lilli Grubera ospita Marco Tarquinio Brunella Bolloli Luca Telese e Andrea Scanzi ci fermiamo ci sono due risultati di calcio ci sono giocate altre due partite della giornata di campionato la 34esima l'Udinese ha battuto la Sampdoria 2 a 0 e questo porta alla certezza matematica della retrocessione per la squadra genovese l'Empoli ha battuto la Salernitana 2 a 1 stasera c'è Sassuolo Bologna vediamo altri numeri quelli delle borse Milano ha chiuso con un più 0,28 la giornata di contrattazione in questo momento a Wall Street il Dow Jones lascia sul campo lo 0,13 e invece il Nasdaq guadagna lo 0,09 è tutto Gruber ci vediamo domani sera buonasera